ciao a tutti gli amici della pagina dell'ortodio a tutti i fan e ciao a tutti gli iscritti al canale di stefano maggi di youtube anzi non siete ancora iscritti non avete ancora messo like alla pagina facebook cosa state aspettando qui all'ortodio come anche da voi immagino è arrivata la primavera e oggi ci siamo deliziati con la raccolta di asparagi ne abbiamo fatto un mezzo chiletto se volete venire anche voi a raccoglierli insieme a me contattatemi ci facciamo delle belle passeggiate però non martedì e giovedì che ho ricominciato l'università e mancano quattro esami per laurearmi e sapete che il corso sta seguendo adesso tassonomia di vegetali e flora d'italia praticamente ti insegnano a classificare a distinguere insegnano quali sono tutte le piante autoctone che ci abbiamo in italia che figata comunque gli altri giorni se volete venire ce ne andiamo a raccogliere gli asparagi e poi ci facciamo una bella mangiata una bella pasta un bel risotto o ancora meglio una bella frittata perché guardate quante ovette delle nostre galline ovviamente forse non la sapete ma ci troviamo nel recinto grande delle galline 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 cocò cocò galline guardate un po' arriveranno galline quindi con le uova delle nostre gallinelle gli asparagi raccolti da noi una bella frittata chilometro zero sana costo zero cosa aspettate non vi sembra una vita da sogno cosa aspettate a venire a fare un salto all'orto dio beh io ho detto tutto quello che vi dovevo dire vi mando un saluto vado a mangiare buon appetito ciao dall'orto dio ciao dallo sciamano alla prossima